Buon pomeriggio! Allora, pollicione, iscrizione, datemi una mano a crescere che ce n'è bisogno. Allora, togliamoci qualche sassolino dalle scarpe. Il primo riguarda il problema dei famosi commenti che sparivano e sostanzialmente delle limitazioni che noi dobbiamo sostenere a fronte di un algoritmo scritto da un diversamente pensante. Quello che mi fa girare gli zebedei come pale d'elicottero è una cosa molto semplice. Noi canali di informazione, dico noi in generale, quindi non solo il mio, che è piccolo, anche canali più grossi, subiamo costantemente una sorta di verifica che non si basa su quello che diciamo, ma semplicemente sulla banale presenza di determinati termini. L'esempio ultimo è il titolo del video di Paragone, non ho potuto citare il titolo, perché nel titolo c'è un termine che può creare problemi, ma anche affrontare determinati argomenti può creare problemi. Per cui dobbiamo stare sempre attenti a tutto quello che diciamo, anche se diciamo cose assolutamente sensate, assolutamente posate e assolutamente verificabili. Qui non stiamo parlando di canali che parlano della terra piatta dei rettiliani, parliamo di cose serie e dobbiamo quindi essere serie e precisi in quello che diciamo. Eppure abbiamo questa spada di Damocle sulla testa. Ragazzi, il canale più grosso, ve l'ho detto, è quello di Masara. Gli demonetizzano Videonastro, non così tanti, ma tanti sì. Cioè, tanti sì perché lui stesso ammette che il sostegno del canale è dato dai suoi abbonati. Perché una volta che tocca determinati argomenti parte la restrizione, parte la limitazione, il video viene visto meno, quindi in camera meno, di fatto viene deranchizzato perché funziona anche così, i video vengono suggeriti anche grazie a questo, e di fatto rimani comunque bloccato. Io non avrei problemi se questo principio venisse applicato con tutti. Ma perché sui canali di formazione si è esageratamente fiscali, per non dire peggio, mentre ci sono dei canali che sono letteralmente dei colatori fognari che sostanzialmente possono dire e fare quello che vogliono senza che ci sia un intervento diretto del suddetto famoso algoritmo depensante? Ma se non sto parlando di canali di calcio, di cinema, così, non sono quelli a cui faccio riferimento. Io ora parlo dei canali trash. Ci sono tanti canali trash in Italia, alcuni che sono letteralmente bava di rospo per i contenuti che fanno, portati avanti da gente che è un misto tra l'ignoranza e la cattiveria, che usano linguaggi che non utilizzerebbe neppure uno scaricatore di porto ubriaco, eppure sostanzialmente non vengono toccati i canali che raccolgono dislike con le reti a strascico, ma sono sempre lì. Noi dobbiamo stare attenti se ci soffiamo un naso momenti. Poi è un discorso che si potrebbe allargare quando vedo che scompaiono canali che caricano film vecchi, più o meno come Tutankhamon, e vengono tolti perché non si sa mai. Per carità va anche bene, ma alcuni di quei film non hanno neanche più la copertura del copyright, solamente sono muffi, non se li fila con nessuno, spesso sono dei rip recuperati in rete, da altri rip recuperati in rete, la qualità è quella che è. Però anche lì bastonate. Va bene, io non metto a lamentarmi se un musicista è in carriera e giustamente vuole il suo. Però ti girano quando c'è questa sorta di doppio pesismo, ma che riguardano soltanto i anni formali. Guarda, ho preso un esempio del canale di Marmiammer, Marco Aratta, che spesso si trova i video demonetizzati, non perché fa qualcosa di sbagliato lui, ma perché riporta musica fatta da altri che stanno violando loro le leggi, non lui. Cioè, gente che fa plagio, lui fa ascoltare il plagio e, secondo l'algoritmo del pensante, lui è in colpa e quelli no. Ditemi qual è la logica. Noi dobbiamo stare attenti a non nominare certe parole, perché l'algoritmo non è capace di distinguere il contesto. Cioè, non puoi utilizzare la parola che indica il colore più scuro, anzi, il non colore, nell'accezione spagnola, perché magari l'algoritmo capisce esattamente il contrario e pensa che si riferisca a un'identificazione. Ragazzi, cioè, non dovrebbe funzionare così. Perché poi è YouTube Italia che ha sti problemi. Quella americana, ci sono canali enormi che fanno informazione e non gli vanno a rompere tanto le balle. Perché comunque gli portano in trosti. Le balle le rompono a noi. Più siamo piccoli, più ce le rompono, tra l'altro. Ma anche, tanto per dire, il canale del mio paracollega, ma io vedo che diversi suoi video non hanno le pubblicità inserite o ne hanno pochissime. E a differenza sua, io non ci devo campare con YouTube, ma lui sì. Lui lo fa ormai come professione. Ed è una professione, ribadisco, a prescindere dalle mie simpatie, antipatie e dalle posizioni. Per fare i video, ci devi mettere comunque impegno. Però, se tu a fronte di questo impegno ti trovi un video su due in cui non viene inserita la pubblicità, o viene inserita, ma con le limitazioni. Non perché hai detto qualcosa di sbagliato, qualcosa da alienato, da stordito. No, semplicemente perché hai messo una parola che secondo quei minchi e l'algoritmo è una parola che non si può mettere. Ma vi sembra logico mettere questi impedimenti senza effettivamente verificare che quello che viene detto è sbagliato o no? Anzi, colpisce anche canali di storia, queste cose. Se ne era lamentato Nova Lectio, non mi è simpaticissimo, ma se ne era lamentato anche Vanilla Magazine, ci sta attento ai kudo. L'unico che non tocca è Barbero, ma che gli frega, il canale non è monetizzato, anche perché sarebbe un elenco di violazioni di copyright lungo un chilometro. però devi stare attento anche a queste cose, anche se tu cerchi di fare divulgazione, di fare informazione. Ma vi sembra logico? Perché così si allontanano quelli che vogliono far sì che YouTube non sia solo una piattaforma per bimbi minchia o per gente che siccome non può sfogare la propria rabbia, si aggancia a questi canali che sono dei collettori funiali, in cui l'unico prodotto che viene sostanzialmente venduto è l'hating, gestito veramente da persone che a guardarle ti dici ma questo veramente appartiene alla mia stessa specie. Però su quelli non danno mai problemi. Lo so. Secondo me qualcuno dovrebbe revisionare un attimo questo famoso algoritmo. Non pretendo la luna, ma che sia capace un po' di contestualizzare le cose sarebbe già un passo avanti. La seconda cosa Ora c'è un partito che fa nella sua propaganda della lealtà e della fedeltà un principio fondante. Non è la Lega è Fratelli d'Italia. Tra l'altro se avete occasione di vedere il video sulla una certa dottoressa debancata dal nostro bravo avvocato di quartiere ecco il termine pentademente non è un termine medico anzi quando l'ho tradotto la sua la sua risposta la sua risposta letteralità what the fuck che cazzo vuol dire perché diciamo che è un po' più competente della signora in questione sul settore è stato cognato da un rappresentante di Fratelli d'Italia per insultare i pentastellati. bene il famoso partito in questione Fratelli d'Italia quello che e qui apro una parentesi che riguarda me vi ricordate il famoso video non voglio più neanche parlare comunque sarà disponibile per gli abbonati quando arriveranno a 10 sapete cosa era successo le cui vabbè io ho detto a me soprattutto di uno di quelli che mi ha accusato quello che è lo stesso cognome del incompetente ministro degli interni attuali che è un coniglietto un mischinello che mette un secondo account per poter continuare a insultare come i bambini lasciamo perdere non voglio tornare su quello ho detto io lì ho sbagliato nel metodo ma non nel merito ecco lo stesso partito che definisce voi ma voi inteso generale perché ragazzi non si parla l'RDC per lei era la punta del male assoluto ma poi di fatto si finisce per toccare tutti tutte le persone in difficoltà tutte le persone povere che se ricevono aiuti devono essere vincolate a regole degne degli stati confederati era quella la sua ipotesi ecco lo stesso partito che fu sdoganato dal Silvio perché fino a che non intervenne lui i fini non se lo filavano di pezza e quindi anche la Meloni non sarebbe dov'è non perde occasione per andare sotto a segare le gambe alla candidatura del Silvio ma non per dei motivi ve l'ho detto io l'ho messo come paradosso come provocazione perché gli altri candidati mi fanno discretamente schifo ma non è che lui sia cioè se devo scegliere tra Silvio e Amato avrei dei grossi problemi uno fa schifo in un modo l'altro nell'altro con Gentiloni non dovrebbe dire un presidente della Repubblica senza un foglio di carta ha più personalità vabbè per quelli sono i nomi che girano dicevo il suo partito è stato grazie a Silvio che ha potuto mettere un sindaco a Roma il famoso Alemanno è stato sempre grazie al Silvio che ha potuto mettere un governatore al tempo storace devo stare attento a non sbagliare la vocale con i risultati che poi hanno messo Zingaretti immaginatevi come ha lavorato bene e anche la Polverini però adesso lei è sempre lì con la segotta a cercare di tagliargli le gambe andando addirittura a parlare con Letta cosa che mi conferma semplicemente la mia ipotesi che il PD non sia un partito di sinistra ma lei non è una di quelli che si riempivano la bocca delle parole fedeltà lealtà eccetera eccetera no per saperlo perché e per chiudere un attimo il discorso del vecchio video io penso che sia un pochettino più grave di definire più di un milione di persone dei fumati e l'RDC la cura per i fumati sto usando una che qui è uno scivolo avete capito per me è un po' più grave quello ma il cattivo ero io perché facevo shaming su queste cose non è lei e neanche i suoi vari lollobrigi del compagno danzante che strillando come aquile anche in Parlamento hanno usato questo linguaggio e nessuno che gli ha detto lavati la bocca con la candeggina sta parlando di gente che non ce la fa magnà e tu prendi 15 mila euro al mese di che cazzo vuoi parlare cuccia lì perché non rompere ecco doppio pesismo il doppio pesismo pur di non mettere ma lì è una questione di dimostrare che la leader è lei ma non lo dimostri così minchiona scusatemi il termine abbia scappato non si dimostra così la leadership la si dimostra con la testa cioè la si dimostra perché ragazzi vi ho detto se si va a votare vince il centro-destra in Italia perché dall'altra parte è un macello ma se questo poi il livello della leadership interna non durano neanche un anno sarebbero impegnati più a litigare tra di loro per chi si mette sulla sedia che a gestire effettivamente il potere e comunque governare lo Stato vabbè però ci tenevo a dirlo perché era un po' un rugotto perché sono mesi che va avanti sta barzelletta e adesso passiamo al mio non amato PD all'ex partito di sinistra che sembra che voglia recuperare quelli che ha messo nel depoito da bagagli articolo 1 sostanzialmente ecco perché D'Alema uno dei flagelli della sinistra italiana roba che al confronto Attila era un fiorista ha definito il partito guarito dal renzismo e quindi lui è pronto a rientrare allora che con Renzi il partito fosse diventato un macello lo si era capito ma non è che con questo baciapile che non sa da che parte guardare e che fa delle uscite che sinceramente sono imbarazzanti il paese sta andando a catafascio e lui io sono qui per passione ecco porta la tua passione non lo so in una zona in cui c'è qualche tsunami che almeno ti levi dalle balle perché con te con gente come te con gente con un partito che c'ha avuto l'entricalenda c'ha ancora le cirinnà gente che non ha un cacchio di sinistra il partito è destinato a diventare la nuova democrazia cristiana con meno forza della democrazia cristiana e soprattutto con meno capacità di intrallazzo ma per fortuna ma non perché questi sono più onesti perché non ci arrivano loro dal punto di vista della statura da bisce da Andreotti in giù ragazzi non c'è gara con questi qui cioè capite in che condizioni è la sinistra cioè non è in più la sinistra adesso chi è la sinistra più Europa so quattro gatti far ridere per fare un raduno loro basta basta un monolocale e ci avanza spazio quella lì è la sinistra che è rimasta in Italia e per chiudere Esperanza Descobar voi lo sapete che lo considero uno dei peggiori ministri della storia italiana e vedo che lui insiste impegnato a dimostrare che ciò che dico è vero con prove scientifiche dal fatto quotidiano la circolare emessa da Esperanza Descobar va a contraddire il decreto emesso dal ministero della salute perché ci sono contraddizioni ma al di là di questo che mi sembra anche normale voi direte perché perché chi ha scritto sia il decreto che la circolare non sta bene è uno che ha bisogno veramente di un ottimo trattamento ma di quelli pesanti e lunghi perché porca miseria le norme che avete scritto che riguardano zaccati non zaccati illuminati non illuminati quelli che lampeggiano poco quelli che lampeggiano tanto cercate di capire cosa mi riferisco sento ma sento ma ci siamo capiti scusate ma se no giù un secco non le capisce nessuno sono un casino che non non ha senso tra l'altro faccio notare fonte del nostro ministero della salute il nostro e non il vostro si sta ragionando sulla possibilità di arrivare a quella che si definisce beh immunità di beh ecco ma non è quello il fatto è che gli zaccati con tre zacc secondo i dati non solo del nostro ministero anche di quello del sud africa degli stati uniti dell'inghilterra presentano simili l'avete capito molto simili a quelli del raffreddore porca miseria come fai a capire se sei entrato in contatto con un illuminato se i sintomi sono quelli che potrebbe essere una banalissima rinite considerata la stagione in italia ditemelo eh perché l'unico sistema sono le famose app che non ti segnalano manco se tu ci vai dentro prendi una vasca piena di coccobello te la versi addosso e le app non fanno sapere a nessuno che sei ultra illuminato non lo dicono quello dovrebbe essere il sistema ma se il sistema non funziona come fa una persona a distinguere tra ecciu di un tipo e ecciu di un altro tipo con il tampo con la tamponatura no? perfetto se per sfiga quelle ciù non è del tipo ci siamo capiti cioè la banalissima rinite questo si infila lì e gli scappa uno sternuto e deve tirar su un secondo l'elmetto a lei considerato che la il nuovo coccobello trotta che manco varen questa qui è la loro capacità raziocinante nel gestire le cose le norme devono essere semplici e accessibili non scritte per un esperto di glottologia e di lingue antiche queste non sono norme comprensibili alle persone e non sono probabilmente comprensibili neanche chi dovrebbe farle applicare perché ti viene la rabbina sentite a leggerle però quello è ancora lì ha fatto danni con Conte e sta continuando a fare danni con Draghi e io sinceramente mi chiedo che cazzo ci fa uno che non ha competenze in quello specifico settore a gestire quello specifico settore perché e speranza di competenze in quel settore non ne ha non ne ha ed è ancora lì cos'è Draghi sta pagando con la sua con la sua presenza la marchetta per stare tranquillo e andare a sedere al Quirinale no vorrei saperlo perché il dubbio ti viene buon ragazzi io vi saluto ci sentiamo domani ciao a tutti ciao a tutti